Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Faccio due parole così potete capire meglio il video. Sono riuscito finalmente a riportarvi il siluro, sono contentissimo, soprattutto di averlo fatto a light, soprattutto perché stavo andando a carpe. Intanto vi ricordo di passare da Instagram, che da pubblico foto e contenuti inediti, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di lasciare un mi piace e puntiamo a superare i 40 like. Condividete questo video ai vostri amici, vi spiego cosa è successo. Io e questo mio amico stavamo camminando lungo la sponda di questo canaletto, slash fosso, e a un certo punto, camminando sulla zona che vedrete, vedo un movimento. Avvicinandomi a quella zona vedo l'inconfondibile coda del siluro, allora mi piazzo là, aspettando un po', con una schietta da light, se parliamo di uno sciardino grande così da 2 cm con una testina da 1,8 cm, stando là ne aggancio uno, però spacca. Allora io penso che sia stato il filo rovinato, da lì mi metto sulla GoPro e faccio partire il video, quindi non perdo altro tempo. E guardatelo fino alla fine. Perché lui lo gira qua sotto. Ma dove andai che mangiare? Ma tu ho visto? No ma hai visto come ho mangiato? Gli ho lanciato sotto. Fermo, 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 sta mosso qua sotto. Ho visto il movimento qua sotto. Guardi la canera. Vedi, sta qua, vedi, sta qua che si muove. Qua sotto qualcosa che si muove. Oh, ne un paio di carpe, ti trovo il siluro, ti va il siluro e ne trovo il carpe. Ma ma fa anche via, è un paio di carpe. Volendo si potrebbe mettere anche, volendo si potrebbe mettere anche la treccia diretta. Volendo. Lui l'è qua in giro. No ma sull'acqua bassa qui si pioveve. Guarda, guarda, guarda. Guarda se il cane qua che si muove. Non è il vento, è troppo innaturale. Adesso è il vento. Ho messo il nosciadino anche più grande. Oh, 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 oh. We on, hatin' because you want Shinin' like it's neon, rock like kings of neon Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotrate and win my strategy When that's enough, them amateurs have to leave Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotrate and win my strategy When that's enough, them amateurs have to leave Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Yeah, yeah, shoot Shooting stars across the galaxy It's here, it's here It's here, it's here It's here, it's here It's here I see the tail It's here, it's here It's here It's here It's here It's here It came to me ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho prendi in zaino se la mia fotocamera prendila nella custodia no 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 nella custodia sulla seconda sulla seconda tasca no sarò la rotto cazzo la venue foraco testa ciò piaccia canè la tre esche si dove esche quella l'ho visto l'ho vista testa madonna no devi muoverlo devi farlo saltellare sul fondo eccolo vai ce l'hai vola pressione no si è slamato per me c'è una famiglia qua sotto si questo è bello ho anche tre ma fatti è un'adrenalina la streccia diretta da 10 kg quel cazzo che mi scappa è che mi ha tagliato il filo sulle cannelle adesso quel cazzo che de me scampa aspetta tanto che aspetta fai il lancio così sotto la riva magari quella che gira sotto la sponda perché secondo me la sponda è scavata prima quando ti avevo detto che l'avevo visto ho visto la coda tra le due cannelle la gira qua intorno ce l'ho ce l'ho no no tranquillo tranquillo può correre ok vai 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 non 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 no non pensare non 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 Stai già filmando puntini Lascia un bo De fare un attrezzato disfilizio Sì, madonna che video che viene su. Sì, madonna che video che viene su. Puntami il mulinello. Non, 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 non. Sì, sì, è un raccato. Odipotà le mie canà casting. Odipotà le mie canà casting. Guarda dove ti va sotto lì, ma dove c'è? Guarda dove ti va sotto lì, ma dove c'è? Guarda dove ti va sotto lì? Eh sì, tutto lì in tannica anche Noi che ne entro, dai che ne entro Si Wow Buu, un bel Ma lo recupera anche a chi ha trovato uno Ah sì, è una cosa Vuol dire che gli ne pide uno E gli ne pide uno allora Che anche lo muonetito mi sto spaccando la mano per tenerlo così ah madonna e vabbè dopo sgatti chi sgratta allora dalla fine della canna qui 5 10 cm dopo il primo anello sarà un metro questo adesso liberiamolo ecco l'olà che va ciao 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 ciao